finalmente siamo arrivati cosa dovevamo comprare mi ricordavo che dovevo liberare le anime di france vabbè allora dovevamo comprare dei regali ti ricordi sì ecco andiamo a cercare questi regali perché tutte le location che andiamo ci hanno sempre questi fottuti animatronics basta non rompere niente vabbè ho una pistola perché non sfruttarla meglio se prendiamo tipo le test di animatronico tipo questa ma basta le tue bombe bombe ho preso un regalo pensiamo su una bomba nucleare minchia ok ci abbiamo il primo regalo che ci serve a noi ha rotto le palle a a a a basta va bene allora valla a mettere vicino alla macchina ma come faccio a vieni mettiamo il regalo cammina cammina mi dai la mia arma che ce l'hai tu nel tuo zaino magico cosa vabbè se cosa vuoi la mia arma nel mio zaino magico nel tuo zaino magico tieni non mi rompe il caldo colpi colpi tanti non mi rompe il caldo di più non mi rompe il caldo hai rotto le palle allora ho trovato una bomba levati dalla ma cosa fai con le tue bombe criminale mi sa che questa ti ha fatto un po male sicuro questa ti farà male perché non viene all'inizio no no tranquillo no prendo le mie armi dall'inventario magico però te cazzo tu hai il tuo inventario magico allora te lo metto su per il culo stai giocando con un veterano di god media da salvare le anime dei bambini di fnaf a ucciderci oh ho trovato un cadavere veramente si ho trovato una busta con un cadavere bello ho trovato un computer e ho trovato un regalo già ho trovato un regalo e una chitarra mamma mia la porto dentro dove sei? oh ma dove sei? qua qua sono qua aia dio po aia ma c'è la spazio ma c'è Balloon Boy all'entrata? aspetta dio sta porta ha rotto dai c'è Balloon Boy all'entrata chi l'aveva visto? si ma dove sei? all'entrata c'è Balloon Boy c'è Balloon Boy bello hai un po' di cure di tua nonna? au cure di tua nonna allora fammi stai zitto fammi vedere intanto ahhh fammi vedere non te ne ho manco una ora a posto ok allora che io direi prendiamo il cadavere di Balloon Boy poi andiamo alla finestra 3 2 1 leva di zero ahhh bambino ciccina del cazzo ah non possiamo nemmeno zero devi mettere un pochettino di chiletti in più se vuoi rompere questa sta guarda ora ce la faccio ahhh 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 ah però possiamo utilizzare il pochettino di potere ecco si allora ahhh mi pare di aver visto un altro regalino prendi pure questo ahhh non si può prendere ahhh ahhh zeo dove stai? scusate se prendo munizioni e robe dal mio coso magico ti devi stare fermo soltanto io te le posso dare le mie cose la mia lunga banana magica allora mi dai munizioni della K47 ah si si dove stai? vieni qua della K come? della K47 tieni i colpi bene basta ahhh zeo dove è? dammi una mano a cercare forse qua sotto c'è un regalo zeo controlliamo Deo è tutto il cazzo di sparare le robe vieni controlla negli scaffali poi ci sono regali sotto boh non c'è oh c'è uno qua c'è uno aspetta che lo prendo lo portiamo in macchina prendi pure il bambolotto del bambino che schifo non lo voglio senti tu hai il tuo tu hai il tuo fetticismo delle bambole lo devo regalare a tua sorella mi ha detto che è un giocattolino per lei non va bene è un pelino grande però vabbè Barnes dobbiamo cercare la testa non c'è la testa dobbiamo cercare un altro regalo basta sparare a tutto quanto il locale entra e basta eh vabbè è più bello allora qua un altro regalo oh mamma mia però aspetta posso andare in bagno uh posso andare in bagno mi sa che mi è passata la voglia di andare in bagno di quanto è fatto male dai ma tu non avevi qualche petardo che ti ha dato tua nonna tipo qualche granata ah si mi pare che ce l'ho fammi vedere ma una granata non è una bomba nucleare eh eh vabbè non è una bomba guarda che fa tanto la dobbiamo prendere sempre e comunque non gli sparare coglione sei proprio divertente eh prendiamo questa questa bomba la portiamo a casa vabbè mi sa che questo qui è l'ultimo regalo sai io farei una cosa prima di andarci in questo da questo posto fiuso cosa faresti uh uh esploriamo vediamo com'è sai che è tra poco ferragosto quindi questi regali li dobbiamo portare beh sì è vero uh 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 che cazzo è sta roba prendilo no? no uh c'è il uh c'è il c'è il costume di sì ah qua c'è il cadavere che ti parlavo prima guarda vabbè non c'è niente ma che a te ti pare questo qui il naso queste sono persone mi dicevo mamma mia eeeh bombolette ah aspetta non apriamo a dire secondo me là dentro c'è il cibo quindi prima di tutto non lo apriamo lo apriamo per ultimo ok? ok dai uh un computer tieni un computer grazie prendilo prendilo aspetta io lo prendo con e guarda sto computer lo utilizzeremo togliete per fare i nuovi video sì sì i nuovi video in full hd guarda rubiamo tutto quello che c'è ah portiamo tutte cose alla macchina no il frigo non si può prendere c'è ho? eh amm questo che ho trovato vai ci possiamo pagare la casa godo sì let's go let's go let's go aspetta voglio farti una battuta dove sei no non la voglio fare no veramente veramente no no ora 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 ma non è una battuta cioè si può dire su youtube mamma mia mamma mia che fortuna sì ma dove sei? ah qua qua sei qua fuori guarda ti ti faccio vedere come esultano gli arabi ad un gol ad una partita di calcio già è fa gol sì ma che cazzo hai buccato la ruota coglione va bene tanto era la macchina di merda con quei soldi ce ne compriamo cinque di quelle ah bene quindi sono pochi sai cosa tornai nella cella frigorifera va schiavo no ho trovato un'altra ho trovato un'altra banconota da quanto? ma da quanto? ma da quanto? ma da quanto? si vabbè ma quanti soldi sono? cinque mila da cento sono cinque mila euro guarda ho trovato un'altra ancora ma c'è qua c'è qua c'è qua ma entriamo qua dentro? no no prima cerchiamo per tutti quanti soldi che ti ti resta? Zeo chi sono dei parenti? quelli che li ci riteniamo beh è vero tanto non è che mai ci hanno dato un soldi eh la chitarra di bono avanti portiamo tutti quanti i soldi dalla macchina e dammi una mano va Zeo si dopo ti faccio vedere come un arabo fa no non lo voglio sapere quando un arabo lo... cioè devi premere eh devi premere eh con i soldi premere no andiamo andiamo Zeo corri 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 mamma mia diventeremo ricchi andremo alle Hawaii Zeo beh con 10.000 sicuro 15.000 sono questi perché ti ricordo che questi qui sono vantanati da 5.000 ciascuno da 5.000 eh ma sta cazzo di italia ahah mamma mia ma hai rotto il cazzo te l'ho detto un arabo così esulta quando fa gol sì ora andiamo ad aprire con la porta si ferma ha rotto il cazzo proviamo mamma mia si vede�라 questo rumore scritto c'è un bordeaux trova poxie sei pronto a correre scappa 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 sta venendo un solo flash letto su poxie dovrebbe funzionare il vito che l'ultima volta morti lo vedo handicappato dov'è come nella storia molto del vero gioco mamma mia vado non doveva puntargli la flashlight